Lich, cosa ne pensi del fatto che in Dragon's Dogma 2 avremo solo possibilmente 9 vocazioni, che probabilmente è una cazzata. Sono andato un po' a rivedere compagnia e in realtà secondo me non hanno fatto vedere delle vocazioni che saranno presenti all'interno del gioco. Perché diciamo che un po' la forma mentis che è stata sempre quella della Cap, come in realtà proprio in generale quella di Dragon's Dogma, che facevano una roba molto precisa, molto ibrida e compagnia. Nel senso, in Dragon's Dogma 1 c'era il guerriero, l'arciere e il mago. Queste tre classi avevano le loro vocazioni avanzate, distruttore, stregone e cacciatore, però avevano anche le loro ibride con le classi a fianco. Quindi c'era il paladino, c'era l'arciermago e c'era l'assassino. Il fatto è che in Dragon's Dogma 2 hanno mostrato 4 vocazioni base. Hanno mostrato il ladro, il combattente, il mago e l'arciere. Quindi a ricordi logica, per come workano loro e loro robe anche all'interno di Dragon's Dogma Online, appunto c'è il combattente con il guerriero, il mago con lo stregone, il ladro con Bo, e l'arciere possibilmente con una sorta di cacciatore come nel primo, quindi che aveva l'arco veramente quello me coglioni. E da là poi vengono ibride, quindi ci sta appunto lo spadaccino magico che è magia melee, c'è il mago che era magia con l'arciere, e quindi credo che in realtà loro non hanno mostrato tutta un'altra branca di classi ibride avanzate. Secondo me se le sono tenute, perché ho visto anche delle discussioni guardanti, il fatto che il colore della classe del fattucchiere, o di come cazzo si chiama quello che usa l'incenso, giustamente non si ricollegava a niente, ma io ho una mia piccola opinione sul fatto che quel non ricollegarsi a niente è fatto apposta perché appunto, secondo me, si ricollega molto al falso Arisen, che appunto riesce a controllare le persone, a suefarle, imbrogliarle e compagnia. Infatti i colori di quella classe sono il viola, quei colori un po' scuretti come quello del falso Arisen, secondo me quella è proprio una classe che si sbloccherà a livello di trama per utilizzarla, quindi secondo me non ce ne saranno propriamente nove, secondo me ne mostreranno altre, perché mi sembra strano che non abbiano incluso un assassino. Poi vediamo in realtà come anche vanno. Ne hanno fatto vedere tutto al 100%, assolutamente. Guerriero si intende spade scudo? No, guerriero si intende quello con lo spadone a due mani, dio madonna. Esattamente, Dav. Tecnicamente, per anche come loro strutturavano anche proprio come mentalità giapponese, il fatto che è molto simmetrica e compagnia, se sono quattro classi base, sono anche quattro per ogni altra roba, quindi ce ne sono quattro avanzate e quattro combinate. Perché in realtà la logica su cui andava questo è che, nello schema delle vocazioni del primo, le classi combinate erano con i vicini. Cioè c'era il mago con il guerriero, il mago con l'arciere, l'arciere con il guerriero e ti uscivano fuori paladino, assassino e compagnia, no? Perché appunto non è ogni classe c'ha la sua combinazione con le altre, era proprio una roba che facevano loro, ma anche in Dragon's Dog Online funzionava molto così, con i loro vicini. Eccoci, grazie. Grazie a tutti! Grazie a tutti!